Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi continuiamo ancora con le offerte Black Friday nel mondo di Sky sì, perché l'altra volta, all'altro video avevo fatto le offerte Black Friday per i nuovi clienti oggi andiamo a parlare dei vecchi clienti, per i vecchi clienti Sky grandi offerte, quindi prima di tutto ti invito a iscriverti al canale, lascia un like, scrivi i commenti e soprattutto clicca sul link qui sotto se mi vuoi contattare quindi iniziamo e andiamo a parlare delle offerte che ci sono, vai! Allora eccoci qua, le prime offerte le più importanti secondo me sono quella dello Skycube Black e Skycube Platinum in offerta a 0€, ripeto, Skycube Black lo prendete in offerta a 0€, vi arriva a casa il tecnico vi monta il decoder Skycube Black e vedete tranquillamente invece lo Skycube Platinum, anche questo verrà il tecnico a casa vi installerà sia il decoder principale che il mini per questo avete qui dei costi aggiuntivi questi costi aggiuntivi per i primi sei mesi sono gratuiti ripeto, i primi sei mesi sono gratuiti poi a seconda dell'anzianità andate a pagare qualcosina in più sul vostro abbonamento quello a seconda dell'anzianità può andare dalle 6€ alle 15€ però questo si può vedere solo al momento dell'inserimento della richiesta dello Skycube Black quindi si vede quello che c'è, si prende prima di tutto lo Skycube Platinum scusate prima avevo invertito lo Skycube Platinum che prima lo davano o a 199 o a 29 dipende le varie offerte, c'erano varie offerte per il Black Friday solo fino al 28, capito? se no dopo ritorna a prezzo di listino avete queste due offerte lo Skycube Black e lo Skycube Platinum in offerta secondo me questa è l'occasione buona soprattutto per chi ha quei vecchi decoder di Sky quello bianco, l'HD, quello vecchio e chi ha il vecchio MySky, quelli di una volta questa è la volta buona per cambiare decoder e passare alla nuova tecnologia se non l'hai vista ancora ti lascio qui sopra il link in descrizione con quello che cos'è lo Skycube Black e lo Skycube Platinum come funziona che ho già fatto altri video poi ci sono altre offerte cioè le altre offerte sono i pacchetti Sky se non avete ancora i pacchetti Sky come ad esempio il cinema, lo sport, il calcio questa secondo me è la volta buona per prenderlo prima cosa c'è l'offerta adesso vi leggo dello sport gratis per 3 mesi poi per 12 mesi andate a pagare 9,90€ al mese vi ricordo che il pacchetto sport a prezzo di listino normale è 15,20€ quindi secondo me questa è un buon risparmio e poi vi potete vedere tutto il pacchetto sport con tutti gli eventi più importanti Formula 1, MotoGP, Tennis e altro altro ancora a questo prezzo molto basso primi 3 mesi gratis poi 9,90€ per 12 mesi poi tra 12 mesi si vede se continuano a tenerlo o disdirlo l'altra offerta è intrattenimento plus gratis per 3 mesi poi andate a pagare 7,99€ anche questa è secondo me una buona offerta per chi vuole integrare un po' il pacchetto SkyDV vuole un po' ampliarlo poi c'è l'offerta del calcio l'offerta del calcio che è gratis fino al 31 gennaio ovviamente perché ci sono poche partite e quasi niente poi andate a pagare 5€ in più al mese e questa cosa secondo me è conveniente anche perché se arriva da zona e rilascia qualcosa e tutto quanto qui avete già il pacchetto pronto poi ultima cosa l'upselling se volete il pacchetto del cinema anche questo i primi 3 mesi gratis poi andate a pagare per 12 mesi a 9,90€ al mese invece di 16,20€ cioè qui avete un bel risparmio perché? perché invece di pagare 16,20€ al mese andate a pagare solo 9,90€ e questo vi integra tutto sul pacchetto di SkyDV ovviamente queste cose sono da controllare quindi se volete farlo mi contattate qui sotto vi lascio il link con tutti i miei recapiti mi dovete fornire il vostro codice cliente io vedo se potete aderire a queste offerte a seconda di quelle che volete e si fa la richiesta tranquillamente il vostro tecnico o addirittura può darsi che arriverò io se siete nella mia zona vi installerà il decoder o l'upselling di pacchetto se scegliete cinema, sport e calcio quello si attiverà sul vostro decoder senza problemi quindi senza che vieni nessuno si attiverà inizierete a vedere o il cinema o sport e calcio quindi queste offerte Black Friday secondo me sono da prendere assolutamente mi raccomando l'offerta è valida solo fino al 28 e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti e andrà lanciato il vostro tecnico digitale ciao